Una giornata ben ritrovati carissimi telespettatori di Fanno TV sul canale 17 del digitale. Siete sulla frequenza che tutte le mattine alle 7.30 vi dà i giornali, i freschi di stampa con la lettura dei titoli, delle notizie più importanti dai quotidiani Carlino Corriere, Messaggero. Come di consueto però prima guardiamo il santo di oggi, oggi i santi primi martiri della Chiesa di Roma. Il sole è sorto alle 5.28, tramonterà alle 20.55. Il tempo, l'immagine che ci mostra la nostra telecamera dall'osservatorio meteorologico con il cielo quasi sereno, 20 gradi, la temperatura alle 7.30. Vediamo subito il tempo previsto per la giornata di oggi con le previsioni della protezione civile. Allora avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie o lieve aumento. Per domani 1 luglio cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento su tutta la regione e giovedì 2 luglio ancora cielo sereno poco nuvoloso con mare quasi calmo, poco mosso durante le ore pomeridiane, le temperature ancora in aumento. Le condizioni di tempo stabile e soleggiato sulle marche continueranno anche per il resto della settimana con temperature che non mostreranno sensibili variazioni. Allora cominciamo con i giornali, dicevo, la lettura dei quotidiani, ampio spazio alle esequie del piccolo Edoardo, il bambino di 8 anni rimasto ucciso nell'incidente, in un incidente stradale con il papà, il papà è ricoverato ancora in ospedale al Santa Croce di Fanno, dicevo, incidente che si è verificato venerdì pomeriggio intorno alle 19. Il resto del Carlino, tante fotografie con tanti ragazzi, compagni di scuola, i compagni della squadra di calcio dove giocava appunto Edoardo. L'ultimo bacio della mamma al piccolo Edo, grande commozione per i funerali. E ancora, cari genitori, nessuna lacrima scorre in vano, scrive il Vescovo Trasarti in una lettera indirizzata appunto ai genitori del bambino. Vediamo le altre pagine, sempre su questa notizia, il Corriere Adriatico, lo strazio della mamma, ti amo amore mio, la chiesa non contiene tutta la folla, assente il padre operato dopo l'incidente e che si trova appunto ancora in ospedale. Don Giuseppe, che ha celebrato il rito funebre, dice, ha detto una risposta per questa morte, non ce l'ho, ma so che non è la fine di tutto. Palloncini bianchi liberati verso il cielo e immagini proiettate per ricordare il bambino di otto anni. E sopra un piccolo grande campione con le ali, così l'ha definito il presidente della Polisportiva Azzurra, che l'attendeva in campo la sera della tragedia. La pagina di Fano del messaggero invece, la mamma Edoardo ora è l'angioletto della stanza accanto, commozione ai funerali del bimbo morto in un incidente, il babbo ancora in ospedale, il vescovo dal vescovo, la lettera, una lettera alla famiglia. Allora, torniamo sul resto del Carlino perché c'è un'altra notizia di cronaca. Bimba di 5 anni ricoverata al Salesi di Ancona, è rimasta ferita domenica pomeriggio ed è stata trasferita ad Ancona. Poi sul festival musicale al Pincio, Repubblica Indipendente, da venerdì a domenica gruppi di giovani e alternativi. Poi sopra le vele via col vento, per loro una nuova sistemazione, le tre strutture sono state rimosse dalla liscia. Ambito sociale e irregolarità. Il Comune promette controlli dopo la denuncia dei 5 Stelle informate le autorità competenti. E sempre sull'ambito sociale l'intervento di Darpetti. Darpetti è il direttore dell'ufficio pastorale per i problemi sociali e dirigente di cooperative Marche. Dice non c'è dubbio che nel settore dei servizi sociali in base all'attuale legislazione regionale un ruolo importante lo gioca l'ambito sociale, quindi non ci si può non interrogare se nel nostro territorio l'ambito sociale numero 6 abbia svolto il ruolo che gli competeva. A mio modesto parere, dice Darpetti, no. E quindi vanno azzerati i vertici. Poi, foresta nera, mare blu, i gruppi di Fano e Rastat, la città tedesca gemellata con Fano, ricevuti dal sindaco Seri, vacanze per persone con disabilità. Andiamo nell'entroterra, anzi no, andiamo a Marotta. PD e PSI incontrano gli investitori, critiche assurde sull'outlet. In ballo 800 posti di lavoro e 80 milioni. Il Partito Democratico e il Partito Socialista di Mondolfo e Marotta sono stanchi di sentire le assurde critiche al progetto outlet mosse da associazioni e organismi vari, ultimo dei quali la Lupus infabula. E sono stanchi soprattutto di ascoltare Varotti e la Confcommercio, che quando aprono nuove strutture a Fano o a Pesaro non hanno mai nulla da obiettare, mentre per il Comune di Mondolfo sta succedendo la fine del mondo. Insomma, a Marotta vogliono tutti questo grande centro commerciale, questo grande centro outlet che appunto porterà 800 nuovi posti di lavoro e 80 milioni di soldi che gireranno con l'economia, insomma le costruzioni, immagini e tutto il resto. Tanti spettacoli, appuntamenti sempre a Marotta. Marotta farà la sua figura, parla il sindaco Cavallo e parla a proposito della Notte Rosa. Vedete questa foto di gruppo, il sindaco, l'assessore Silvestrini con alcuni rappresentanti dell'associazione, questo cuore rosa. Poi dall'entroterra, dicevo, il resto del Carlino pubblica un'intervista al presidente del Museo del Bali, Alighiero Omiccioli. Il gusto squisito della scienza, struttura in crescita e da sabato parte una nuova iniziativa. A 11 mesi fa, quando accettai l'incarico gratuito di presidente del Museo del Bali, Alighiero Omiccioli si pose come obiettivo l'incremento dell'appeal e dei visitatori di questa importantissima realtà culturale. Bisogna dargli atto che in neppure un anno i risultati sono già tangibili. Non so se l'avete mai visto, ma vale la pena andare a vedere questo museo davvero bello. A Saltara. La cronaca da Pesolo, invece, guardate questa donna, l'abbiamo fatta vedere anche ieri, più volte nel nostro telegiornale, è la sexy ladra che offriva sesso fugace e poi rubava gli ori alle sue vittime, fermata dai carabinieri, ma il giudice l'ha già rimessa in libertà. La sua complice riesce a fuggire quando Elena viene bloccata l'ipercop dalla vigilanza dei militari, quindi adesso c'è il di Bosco e la stanno cercando, questa complice di questa ragazza. L'edicolante era girato, lei guarda la donna mentre scrive il numero di telefono, la complice gli sfila, 500 euro. Insomma, la cosa importante da dire, soprattutto per il fatto che il giudice l'ha rimessa in libertà, è che non starà ovviamente con le mani in mano, continuerà a fare questo perché di mestiere poi fa questo. Sappiate che c'è in giro una sexy ladra avvenente che cerca di rubarvi tutto quello che avete, allora attenzione, ma soprattutto se ci cascate avvisate subito le forze dell'ordine perché è importante che, così come hanno detto loro, come ha detto il capitano ieri, che è importante che la denuncia avvenga immediatamente e non dopo un po'. Allora, adesso lasciamo il resto del carino, torniamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, il porto emergenza regionale, interrogazione al governatore Ceriscioli da parte di Mirko Carloni che dice urgente il dragaggio di tutto il bacino. Poi si parla sulla pagina fanese del Corriere della Rincicotti Orciani, è il giorno di De Leo atteso in commissione per il lodo arbitrale. E ancora, ambito sociale, due esposti del Comune, affidamenti senza gare, avvertite procura e corte dei conti, bloccate fatture per mezzo milione. E poi, sempre dalla pagina di Fano del Corriere, due interrogazioni in sei giorni, pressing dei 5 stelle, coinvolti Home Care Premium 2012 e il servizio sollievo, sollecitate risposte all'amministrazione. Poi, sicurezza in bicicletta, i consigli per l'uso in strada contro i ladri, Cascioli raccomanda attenzione nella scelta di mezzo e accessori. Ancora, da Marotta, Marotta si tinge di rosa, venerdì si passerà dal jazz allo schiuma trash party e ci sarà anche la festa dei garagoi. Poi, da frontone all'appello per il Parco Nazionale, mancano solo i politici locali. Al rifugio Cotaline 1400, si è discusso della proposta di legge delle deputate Ricciatti e Terzoni per creare l'ente Catria, Nerone e Alpe della Luna. Andiamo sulla pagina adesso del messaggero. Baia Flaminia, mai più auto sul Prato. Dopo le polemiche di domenica, il comune di Pesaro blinda l'area verde del campo di Marte. Si potrà entrare solo in bicicletta. Probabilmente saranno graziati i mezzi fotografati in divieto. Da Fano appello alla Regione per il dregaggio, il consigliere di area popolare Carloni preme la Giunta per intervenire al più presto. Poi, lo smemorato tedesco, ve lo ricordate, ieri ve ne abbiamo parlato qui in rassegna stampa, è tornato a casa, ha ringraziato tutti, Fabian commosso, riabbraccia anche il padre. Allora, per chi non ha seguito ieri la rassegna, lui è Fabian, quello che ha perso la memoria per qualche giorno, ma che non ricordava chi fosse e da dove venisse, eccetera, eccetera. E questo invece è il padre, il padre che ieri, quando è stato chiamato dai carabinieri di Pesaro, è partito subito con l'auto ed è dalla Germania, giunto a Pesaro per riprendersi il figlio. La politica, Marco Lini, Ceriscioli non è stato ai patti, ma lo sosterremo. PD, l'avversario delle primarie è lasciato fuori dalla giunta, Comi è tornato al suo lavoro, una buona notizia per tutti. Giunta debole, sarei preoccupato, dice Marco Lini, anche con gli scienziati. I due indagati non sono affari miei, certo, non sono rinviati a giudizio. Poi, sempre dal messaggero, tornano i bagnini di salvataggio, con sette postazioni dislocate da Gabice fino a Pesaro, tra l'altro è stato a Gabice soccorso anche un turista colto da Malora, un turista svizzero cardiopatico, che è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Chiudiamo con la pagina di Fano del Messaggero, esplode la grana ambito sociale, sotto le lenti appalti e pagamenti, segnalazioni alla Corte dei Conti, i 5 Stelle incalzano e parlano di vicenda da rendere subito pubblica, l'amministrazione informate le autorità competenti. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e arrivederci a domani. Grazie a tutti!